Marco Travaglio, comincio con te perché arrivano notizie sempre più allarmanti dal Medio Oriente. Oggi, a parte il raid sull'ambasciata iraniana a Damasco in Siria che viene attribuito agli israeliani, sono state uccise 13 persone e tra loro un generale dei guardiani della rivoluzione iraniana. L'Iran promette durissima risposta, ma poi per quanto riguarda Israele e Gaza abbiamo visto che da una parte il Parlamento israeliano, la Knesset, ha approvato una legge che consente di mettere a tacere la televisione araba al Jazeera e dall'altro abbiamo anche dovuto registrare un attacco contro il convoglio di una ONG americana che si chiama World Central Kitchen a Gaza, che porta aiuti e soprattutto cibo ai civili a Gaza. E qui sono stati uccisi 7 volontari, 3 sono britannici, 2 americani con doppio passaporto palestinese e americano. Insomma, il premier Netanyahu ha detto che in guerra questo può succedere e ha annunciato in ogni caso un'indagine per appurare le responsabilità. Allora, ti chiedo, in un teatro di guerra così complesso, cosa significa spegnere una televisione come Al Jazeera che non solo una voce molto forte nel mondo arabo, ma anche a livello internazionale perché ha un canale in lingua inglese? Cosa significa? Significa oscurare una preziosa testimonianza dei crimini di guerra che sta commettendo il governo Netanyahu da 5 mesi, significa aggravare le violazioni della libertà di stampa, non dimentichiamo che dei 32 mila morti e più di questi 5 mesi a Gaza, quasi tutti i civili, 138 sono giornalisti e operatori, quindi meno occhi ci sono a vedere e a raccontare quello che succede, meglio è per Netanyahu, il quale sta facendo cose che non sono mai accadute e che non verrebbero permesse a nessun capo di governo di nessun paese del mondo senza sanzioni, se ne frega degli alleati e va bene, ha subito il pogrom di 1300 morti e ne ha fatti 20 volte tanti in 5 mesi, se ne infischia di una risoluzione dell'ONU sul cessato il fuoco che è vincolante, è un ordine, non è un consiglio, non è un suggerimento e nessuno fa niente, nessuno muove un dito, se ne frega delle raccomandazioni della Corte di Giustizia che gli ha detto di impedire una mattanza che stava continuando perché mette a rischio Israele di un'accusa gravissima, quella di genocidio, apre fronti di guerra ovunque, innanzitutto per restare al potere con la scusa che deve fare le guerre, bombarda stati sovrani ogni giorno, un giorno è il Libano, un giorno è la Siria, un giorno è l'Iran, oltre a Gaza che non è casa sua dal 2005 perché Israele si è ritirato da Gaza con Sharon nel 2005 e non ci sono sanzioni, non ci sono mandati di cattura, a differenza di quello che succede per qualunque altro paese che si permetta anche soltanto di sfiorare i comportamenti che sta tenendo Israele, per molto meno Putin ha un mandato di cattura internazionale e qui non succede niente, non c'è nessuno che applica la minima sanzione nei confronti di questo criminale, è una cosa al di là del bene e del male, non ci sono commenti. Intanto sappiamo che le guerre contemporanee prima si vincono quelle di propaganda e poi le guerre militari sul campo, siccome abbiamo anche una guerra in Ucraina, chi sta vincendo le guerre di propaganda e quando Lina Palmerini si chiedeva prima che cosa preludono tutti questi eventi così inquietanti cui stiamo assistendo anche in queste ore, tu l'hai capito? Mi pare che preludano a un incendio sempre più esteso e sempre più imprevedibile, è chiaro che andare a toccare l'ambasciata iraniana in Siria, è chiaro che cercare in tutti i modi di far esplodere anche il Libano, come se non bastasse quello che sta succedendo a Gaza, attirare le ire dei pirati uti rinfocolando quindi la guerra civile che sembrava, per procura anche quella che sembrava estinta dopo tanti anni di massacri in Yemen, tra Iran e Arabia Saudita. L'escalation purtroppo è il famoso autobus impazzito, senza freni, che scende all'impazzata per la discesa e nessuno sa dove andrà a schiantarsi e questo vale per il Medio Oriente come vale per l'Est, per l'Europa e quindi per l'Europa dell'Est e per la guerra tra Ucraina e Russia. È chiaro che dai russi certe cose ce le si aspettava, li abbiamo già visti all'opera in Cecenia, in Georgia, ad Aleppo, in Crimea, quindi è vedere la democrazia israeliana ridotta a chiudere le televisioni che fa effetto. Israele credo che non si sia nemmeno posto il problema della propaganda, continuano a ripetere a loop che il 7 ottobre c'è stato un pogrom, sono loro che lo hanno fatto dimenticare, se c'è tanto antisemitismo nel mondo è colpa del governo Netanyahu, perché il giorno del 7 ottobre tutto il mondo, anche ampi settori del mondo arabo solidarizzavano con quei 1300 poveri ebrei uccisi al confine con Gaza in quelle modalità truculente. In Russia, tra Russia e Ucraina, la propaganda occidentale sta perdendo perché ha raccontato così tante balle da oscurare quelle di Putin, cioè per due anni abbiamo saputo che i russi le prendevano e gli ucraini vincevano e poi un giorno a settembre ci hanno detto Ops ha vinto Putin. Ci avevano detto che i russi combattevano con le balle del 1860 e con le dita al posto delle baionette e che i chip dei carri armati li prendevano dai tiralatte e dai frigoriferi rubati in Ucraina, poi abbiamo scoperto che hanno dei missili ipersonici che superano addirittura la velocità delle sirene e quindi tale è stata la propaganda bellicista occidentale che adesso passano inosservate le balle che ha raccontato Putin, persino quelle che ha raccontato sull'attentato di Mosca. Quindi la propaganda la stanno vincendo tra virgolette i cattivi, la stanno perdendo i buoni, sempre tra virgolette, perché l'Occidente si sta andando a ficare in due situazioni senza uscita. Pensiamo forse che Israele possa vincere la guerra a Gaza? Possa sconfiggere Hamas con tutte le reclute che gli sta procurando gratis per gli anni a venire con quello che sta succedendo, è una sconfitta totale dell'Occidente. È una sconfitta totale dell'Occidente Paolo Mieli? Aspetta perché poi Marco ha detto un paio di cose forti a cominciare da la colpa è di Netanyahu delle ondate di antisemitismo internazionale. Su questo non sono assolutamente d'accordo, nel senso che quell'antisemitismo si intravedeva da prima, era latente ed ha trovato un'occasione propizia per venire alla luce in modo potente e questo è gravissimo, non è che prima il mondo fosse ben disposto a quel lutto che ricordava Marco Travaglio nei confronti del 7 ottobre è durato una decina di ore, 15 va e non se ne parli più, ma non di più. E perché poi quello ha cominciato a massacrare a Gaza e quindi l'ha fatto dimenticare. Qui devo fare una precisazione, le guerre si vedono alla fine, è inutile che noi facciamo settimana per settimana un bilancio, molti nostri ascoltatori, voi sicuramente sì, non ricordano che non 80 anni fa ma 8 anni fa ci fu la liberazione di Mosul, la liberazione di Mosul in Iraq, nel nord dell'Iraq. Si svolse in condizioni analoghe a questa, in senso era la capitale che due anni prima nel 2014 avevano preso l'Isis e durò 9 mesi e su 600 mila era l'esercito iracheno sorretto da tutti noi, quella volta era persino d'accordo in qualche modo Putin e quella volta fecero su 600 mila abitanti 40 mila morti, è come se oggi fossero 120 mila e anche loro ti assicuro che i combattenti si calcolano se fossero 3 mila, donne, bambini, cose, travolti perché quando al potere c'è un regime come quello dell'Isis… Adesso sulle cifre esatte non… No, le cifre sono controllate. Sono controllate, è vero. E comunque… Però Paolo, scusa… È sull'indipendente del 19… Siccome mi aspettavo questa obiezione… No, 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 perché adesso non ho… Scusa, travaglio. No, non voglio contestare le cifre ma volevo dire, nel 1990 quando Saddam Hussein bombardava Tel Aviv e Haifa c'era l'esultanza delle piazze islamiche ogni volta che una bomba cadeva su una città israeliana. E lo ricordo bene. Elis Shamir fu molto astuto perché non reagì sul consiglio di Bush e gli disse lascia fare a noi se no sfaldiamo la coalizione, padre, quello intelligente, quello furbo. All'epoca c'era un odio nei confronti di Israele nel mondo arabo che non è paragonabile a quello che c'era fino al 7 ottobre. Il 7 ottobre non c'è stata nessuna scena di esultanza per quell'orribile pogrom ai danni di ebrei israeliani. È dopo la reazione totalmente folle di Israele che si è scatenata questa ondata anche in Occidente. Quando mai le nostre università hanno pensato di boicottare Israele prima di quello che è successo negli ultimi 5 mesi? È una cosa che è in atto già da anni ma comunque c'è un filmato che Israele non ha reso pubblico in cui c'è il rientro dei terroristi che hanno fatto a Damasco, filmato da loro, dai loro caschi, dalle loro cineprese e come sono accolti a Gaza. Ti assicuro erano esultanti, cioè a Gaza la popolazione… Ma non parlo di Gaza, parlo del mondo islamico, delle piazze islamiche. Nel mondo islamico ormai l'esistenza di Israele che non era data per scontata ancora nel 90, ultimamente era data per scontata, nessuno realmente pensava di cancellare Israele. Infatti questo attentato, anche su questo hai ragione, questo attentato è stato fatto contro questo sentimento di cui tu parli, proprio perché il clima era quello che tu descrivi, per questo è stato fatto il 7 ottobre e mi sembra incredibile, lo ripeto per la seconda volta, che Israele abbia abboccato in questo modo. Meglio rimanere fuori, aspettare, non lo so, ma questo non mi sembra il modo sensato di comportarsi, capitano. E poi che conta anche chi gestisce queste situazioni, perché come si ricordava prima c'erano due altri attori sulla scena internazionale, Bush e Shamir, quindi quando anche Paolo Mieli dice che Netanyahu non può diventare un nome di comodo, però si è comportato in maniera completamente diversa. Volevo chiederti una cosa italiana, perché l'abbiamo prima accennato quando abbiamo cominciato la puntata, perché è successa una cosa importante oggi nella Commissione Affari Costituzionali al Senato, dove è stato votato praticamente il cuore della madre di tutte le riforme, come l'ha chiamata Giorgia Meloni, la riforma del premierato, perché è stata votata e approvata l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Tu cosa ne pensi? Perché tu sei contrario a questa riforma e perché non ci hanno detto contestualmente con quale legge elettorale si andrà a votare direttamente questo futuro premier o Presidente del Consiglio? Noi del fatto saremo parte attiva dei comitati del no, come già facemmo con Renzi e su altri giornali con la riforma Berlusconi, quindi certo che siamo contrari, noi siamo perché la democrazia sia un organismo come un corpo umano dove tutti gli organi hanno lo stesso peso, dove c'è una testa gigantesca che schiaccia il resto del corpo come saremmo se eleggessimo direttamente il Presidente del Consiglio e la testa sarebbe il Presidente del Consiglio, nemmeno il Governo. Il Presidente del Consiglio schiaccerebbe gli alleati e tutti i poteri di controllo e i cosiddetti bilanciamenti, ma il fatto che non abbiano messo la legge elettorale nella riforma costituzionale lo ritengo un progresso, sarebbe assurdo ingessare lo Stato al punto da avere la legge elettorale dentro la Costituzione come volevano fare questi matti all'inizio, però ci devono dire che legge elettorale vogliono fare, in ogni caso sarà una legge elettorale oscena, perché io sono un proporzionalista, sono perché ciascuno abbia in Parlamento un numero di parlamentari proporzionali ai voti che prende, ma questi hanno già detto che il partito che arriva primo e che quindi esprime il Premier eletto dal popolo deve avere almeno il 50% più uno in Parlamento, cioè alle ultime elezioni il partito che esprimeva la Meloni come candidato Premier e cioè Fratelli d'Italia ha preso il 26%, se fosse stato in vigore questa legge magari avrebbero fatto diverso, ma se avessero applicato questa legge alla lettera loro col 26% arrivando primi con la Meloni Premier avrebbero oggi 50% più uno dei senatori e dei deputati, rappresentando quanti italiani? Il 15% e il 26% di quelli che sono andati a votare, quindi io lo trovo abominevole comunque perché nella legge elettorale potranno dire vogliamo avere il 50% più uno oppure vogliamo avere il 55% del Parlamento, ma in ogni caso sarebbe già una forzatura enorme con un effetto moltiplicatore che renderebbe i voti di chi vota gli altri partiti di valore molto inferiore rispetto a quanto contano i voti di chi ha eletto il partito del Presidente del Consiglio eletto. E quindi è un piccolo grande o proprio, scusami, infatti non credo che la legge elettorale di cui parlavano, l'unica cosa buona che ha fatto Israele è di abolire il Premierato. Sono scappati da questa legge, perché creava più stabilità. Perché quello che dice Marco sulla legge elettorale col premio di maggioranza così possa essere accettato dagli altri alleati. Allora infatti anche gli alleati, però intanto gli alleati oggi hanno votato a favore.